ci troviamo a via cardano presso il civico 30 e come potete osservare guardate qua che schifo abbiamo visto pure al numero 44 di via cardano e guardate qua immediatamente faccio la segnalazione praticamente alla protezione civile alla legopetra ma c'è di tutto portoghese sempre con voi 27 giugno 2014 sono per i cittadini di portici questa è la politica dei fatti